L'Archivo Nacional ha riunito un gruppo grande di persone e instanze nella comunità è il tòpico di abolizione di esclavitud del Reino Holandese. Per più concreto, ci sono riuniti la quale storia di esclavitud in Arruba e anche le conseguenze sono ancora qui, però la PID è presente per il mondo, ci formiamo un'agenda di attività per conoscere il popolo di Arruba. Arruba è l'istoria a qui poco conosci nel nostro paese, però anche per assinare il nostro corso della altura. Il corso del Reino Holandese è il tòpico di Arruba. Di più di due anni fa, un comissione sta lavorando, l'arriba è l'abolizione di Arruba. su conseguenze di un'antico lavoro, però anche la PID è parte per brindare una dispensa. Dispensa per la qual cosa passa nella storia, la forma base della qual cosa è stato nel Reino Holandese. Una dispensa, però anche per dare una riparazione. ma è stato, ma è stato chiaro, l'arriba è il tòpico di Arruba, l'arriba è un tòpico di noi, l'arriba di noi, e per essere, a me è molto contenta di vedere una molti tanti che vengono, per il nostro amare, per noi cominciare il dialogo, con noi cominciare il gruppo di Arruba, però che lo amplia, prossimamente, nella nostra comunità. Questa comincia con il dialogo e il tópico di esclavitud nell'arroba, anche nel quadro e l'abolizione che ci sono più di 160 anni passati, ma anche nel quadro e dispensati quello che riguarda dentro del Reino Volandese. Grazie per la visione!